Salve a tutti i miei utenti ed eccoci qui in questo nuovo episodio in cui parliamo dei cammini dell'Oxanatar. Allora, oggi parleremo dei archetipi del guerriero. Sono tre, sono belli pregni quindi non mi potrò soffermare molto sui dettagli per non rendere pesante il video, e sono molto differenti. Una cosa che voglio precisare, visto che al guerriero ottengo particolarmente come classe e la grande adattabilità che ha di solito il guerriero, questi archetipi danno opzioni extra, cioè oltre capacità uniche e nuove, danno al guerriero la possibilità di avere capacità 8 volte al giorno, caratteristica che usa, o addirittura una volta al giorno, cioè diciamo cambiando un po' l'incipit che era iniziale del guerriero. Questo è da varietà, ci sta. E quindi io faccio un applauso a queste tre classi perché sono veramente tanto differenti da quelle già base e tra di loro, dando tanto, 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 come posso dire, scelta. Questo è molto molto bello, specialmente in una classe che è un combattente puro. Queste classi, sì, alcune hanno il pizzico di magia, ma è sempre marginale, lasciano totalmente, come è giusto che sia, spazio all'ambito marziale. Vado come sempre in ordine, come sono state spiegate. La prima è l'Arcere Arcano. L'Arcano è un grande classico che ritroviamo in tutte le edizioni, praticamente, da tra in poi. E che cos'è? È il connubio fra magia e arceria. Semplicemente è qualcuno che incanta le frecce e gli dà capacità uniche. Allora, il terzo livello apprende praticamente i rudimenti della magia, quindi può scegliere un'abilità fra Arcano e Natura, e un trucchetto fra operazione o Artificio Druidico. Quindi qualcosa che fa mischiare le classi. E' un'altra, che è 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 un'altra. E ha una scelta di tiri, ci sono vari tipologie di tiro, che aumentano quel livello. Inizia con due opzioni, fino ad arrivare al diciottesimo, che ha sei opzioni. E al diciottesimo, anche queste opzioni aumentano i dai di arma, che aggiunge quando fa una freccia. Hai danno che fa una freccia. Quindi ecco, il tir Arcano è essenzialmente questo. Tutto sta nelle opzioni che scegli, che lascerò per ultimo, che sono belle variegate. Non sono sei fisse, ce ne sono ovviamente più, tu devi scegliere quelle che più ti piacciono. E aumentano, ovviamente, la progressione. Al settimo, la freccia magica. Tutte le frecce che tira, sono magiche. Quindi questa è molto utile. Al settimo tiro curvo, forse la capacità, a mio avviso, più forte. Perché questa è illimitata. Ogni volta che lui tira, ha un bersaglio e lo manca, può far curvare la freccia per colpire un altro bersaglio. Essenzialmente, se è uno scontro con più nemici, è veramente difficilissimo che sbagli una freccia. Perché se la sbaglia, colpisce un altro nemico. Capite? Basta che sempre è ingittata. E gittata dell'arco, ce n'è tanta. Al quindicesimo, tiro sempre pronto. Questo è, diciamo, classica capacità che ha tantissime classi. Se lui non ha le opzioni di tirare al cano disponibili, cioè ha finito con le due, e fa un combattimento, quando tira in iniziativa ne ha almeno una, sempre. E poi ci sono le opzioni di tirare al cano. Perché praticamente al 18 prende solamente la miglioria, come detto, di questi danni. Proprio l'hanno messa direttamente sulla tabellina. Allora, la prima opzione è freccia afferrante. Tira una freccia, danni extra, dei lampicanti afferrano la creatura, che infliggono un bel altro pochino di danni, e deve fare una prova per potersi liberare, se no è ostacolata nel movimento. La seconda opzione è questa carina, tira la freccia, colpisce, il guerriero sceglie un suo alleato, e quel bersaglio è affascinato da quell'alleato. I grandi bonus da affascinato, che non può attaccarlo, deve un attimino starlo a sentire, ci si può giocare sopra. Molto carina. Poi c'è la freccia cercatrice. Questa, essenzialmente, non ha più per colpire, la lancia e colpisce il bersaglio. che deve fare un triosante sui riflessi per dimezzare i danni. Il forte della freccia è che, finché è zittata, lei lo trova il bersaglio. Può girare anche gli angoli, a meno che proprio non è chiuso in una scatola, colpirà, e il guerriero saprà dov'è il bersaglio della freccia. Utile anche per tante piccole cose. Poi c'è la freccia d'ombra, questa veramente fastidiosa, colpisce il bersaglio e per un round è praticamente accecato, perché è dentro quest'ombra, non può vedere. Quindi è molto pericolosa, specialmente se il guerriero fa le tattiche di gruppo. Poi c'è la freccia esiliante, colpisce, danni extra e esilia la creatura per un round. Quindi la pone fuori dal combattimento. Utilissimo per riposizionare, o proprio per guadagnare del tempo, in realtà, perché facendo fuori un bersaglio un round, il combattimento prosegue, e lui non può dare supporto, o da tempo anche di fuggire. Ci sono tante, tante opzioni. Poi c'è la classica freccia esplosiva, colpisce una zona, fa danni ad aria, poi la freccia indebolente, danni extra, e il bersaglio fa danni dimezzati con gli attacchi fisici per un round. Quindi questa è molto utile contro bersagli estremamente pericolosi nel combattimento. L'ultima la perforante, forse quella che più a me piace, perché proprio c'è un concept carino, la freccia diventa essenzialmente come un attacco 3 virgolette magico. Cioè, in linea di 9 metri, lei passa attraverso gli ostacoli, e colpisce tutti, punto. Mi sembra che ha il tiro salvezza per dimezzare i danni. Più fa qualche danno extra. Quindi ecco, ha proprio questa piccola opzione di fare questo colpo di 9 metri, non immagino come un piccolo fulmine, che colpisce tutti, ma il bello è che passa attraverso gli ostacoli. Quindi, ci fai tante cosine. E questa è la cera al cano. Da dire, quell'arco a distanza, molto specialistico, molto funzionale, deve piacere, perché se vai sempre comunque a tirare quell'arco, è comunque un guerriero, ha tanti attacchi, potrebbe usare sempre un'arma alla mischia, però è un ambito estremamente specializzato, anche perché è arciere, quindi è proprio arco, punto. E' vera l'arco. Poi c'è il cavolo dell'errorante. Il cavolo dell'errorante è un altro classico, cioè il combattente a cavallo, ma non per forza le sue abilità sono solo a cavallo, ma incarna quello spirito nobile di combattenti d'armatura, con capacità di protezione. E' qualcosa che si è sempre visto, perché c'è anche la cassa di prestigio che si chiamava così in vecchia edizione. Qui è stato un mashup di tante capacità, sombra tantissimo al guerriero della quarta edizione in alcune e forse in un certo aspetto il difensore per eccellenza. Allora, andiamo a vederlo. Al terzo livello prende competenze bonus. Guadagna gratuitamente un'abilità tra una lista che sono in più di quelle del classico combattente oppure apprende una lingua in più. Quindi è un erudito, è una persona colta. Poi prende sempre al terzo nato in sella, ha dei vantaggi se cade dalla sella, montare e smontare gli costa meno movimento. Diciamo che il combattere a cavallo per lui è molto molto più facile. E andiamo alle capacità proprio di combattimento. Sempre al terzo livello in marchio incrollabile. Allora, questa capacità è essenzialmente una capacità presa dalla quarta edizione. Spoiler! Quando colpisce una creatura o attacca non deve sempre colpirla la marchia. Questo marchio non fa niente finché la creatura non attacca un alleato del cavallero errante. Se il cavallero è a portata gli fa un attacco devastante perché praticamente questo attacco che gli fa di opportunità ha vantaggio e ci mette come bonus ai danni in metà del suo livello del personaggio. È molto molto forte come attacco quindi molto pesante. Lo può fare però solamente un numero di volte al giorno pari al suo modificatore di forza che metti massimo al 5 sono comunque tante e è chiaro che è una capacità difensiva perché se non hai gli alleati non si attiva mai devi stargli vicino. poi per non dire che combina con talenti e capacità che si usa lo scudo poi andavanti si vede infatti al settimo una nuova protettrice quando viene attaccato su una cavalcatura lui può come reazione tirare un D8 e sommarlo alla CA. Se l'attacco compisce comunque questa è molto bella ha resistenza ai danni il bersaglio più a quell'attacco anche questo ovviamente limitato il numero di volte al giorno pari al unificatore di costruzione capite sono capacità forti molto forti limitate però da caratteristica quindi si perde l'incipit del guerrero che tutto il giorno ha tutte le capacità sempre piene però lui veramente magari in un singolo scontro contro un avversario estremamente pericoloso ce ne ha tutte può dare molto di più può sparare molto di più non piace mi piace sempre tutto tutto il giorno però sono scelte e capisco quanto in realtà funzioni molto bene questa idea al decimo mantenere la posizione essenzialmente lui fa attacchi l'opportunità anche a chi gli si allontana che gli si ingaggia quando colpisce lo blocca un po' simile a Sentinella senza altri bonus vari e questa si combina da una capacità che vediamo più avanti insieme al marco incodellabile alcuni ci cade cafferoce lui quando fa movimento e attacca di almeno tre metri e colpisce la creatura può fargli fare un tiro salvezza su forza mi sembra sì quindi molte ne subiscono l'effetto perché di forza non sono tutte le creature averci la falta altrimenti che la terra può stare a questo privilegio una volta ogni suo turno quindi sempre la prima volta che si muove attacca capite che il primo attacco butta a terra gli altri vantaggi cioè è devastante specialmente se anche a cavallo è il 18 la capacità più forte questa è eccezionale veramente è giusto che sia il 18 e ha uno spunto incredibile la difenza dei vigile gli viene regalato una reazione speciale per fare gli attacchi di opportunità una volta ogni turno dell'avversario praticamente quindi mantenere posizione le manche incrollabile li può fare a tutti quelli che minaccia che rientrano nel come si dice nella capacità che fa scattare le capacità capite l'unica eccezione è che non la può fare quando fa la sua normale reazione quindi ha anche la sua reazione normale che può usare per altre cose perché queste reazioni speciali sono solo per gli attacchi di opportunità quindi essenzialmente è un po' il vecchio di flash in combattimento che avevi tantissimi attacchi di opportunità solo che lui ce l'ha senza che conti la distrezza io la vedo molto forte perché in mezzo alle masse dove magari c'è confusione con lui stai lì punto e se sfugge andiamo all'ultima questa molti hanno storto il naso di una scoperazione che non è piaciuta che è il samurai perché il samurai è una cosa in DDD è un'altra l'hanno voluto rendere diversamente ma ci sta in ambiente fantasy cioè ci sta tutto io come classe non la amo né la odio ha un suo perché ed è anche in certi tangenti molto forte vediamola al terzo competenze bonus guadagna la sua scelta di trattenere intuizione per la sua storia l'ho voluto leggere perché sono tutte cose molto legate al fatto del samurai perché il samurai non era solo un combattente era anche uno studioso un artista qualcuno che elevava se stesso in un'arte e quindi ci sta quindi c'è un po' questo richiamo o se come sempre in realtà può prendere un linguaggio il che tutto torna al terzo prendere capacità più diciamo forte e anche quella chiave della classe che è lo spirito combattivo lo può fare tre volte al giorno mentre lui con l'azione bonus l'attiva e tutti i suoi attacchi in quel raro hanno vantaggio punto semplicemente in più gli dà 5 pf temporane questi pf aumentano in base al livello diventano 10 o diventano 15 10 al 15 10 al 15 capacità offensiva e difensiva allo stesso tempo che fa capire che in quel momento è un guizzo cioè si dà lo sprint infatti spirito combattivo diventa più potente molto più potente perché prendere vantaggio così facilmente in combinazione a certi talenti altre capacità diventa forte si ricorda un'altra capacità infatti sempre il samurai al settimo cortogene elegante questa mi piace molto perché dà quel colore che dicevo che il samurai non è un solo un combattente praticamente prende dei bonus le prove di persuasione e carisma ci mette anche la saggezza e può scegliere di prendere competenza di salvezza nel senso che guadagna competenza di salvezza la sua saggezza ma se ce l'avesse per via di altre classi può scegliere intelligenza o carisma quindi è più difesa mentale più elevata diciamo andando avanti il samurai comincia a cambiare anche il suo modo di combattere perché questa è capacità si vede ha il guizzo diventa più potente è uno studioso può essere anche un artista ha competenze e ha alcuni di salvezza quindi è molto vario qui al decimo poi c'è capacità completamente differenti sono tutti diversi al decimo spirito combattivo quando ha finito gli utilizzi ne ha sempre uno ogni iniziativa anche lui quindi non lo finirà mai anche questa è una classe che diciamo dura nel tempo al 15 colpo rapido questa è è bellissima lui può scegliere di rifiutare di prendere vantaggio attacco perfetto ne può fare uno solo extra round ma capite che c'è lui quando vuole prende vantaggio bello che colpo rapido non ha utilizzi quindi non è correlato per forza lo spirito combattivo metti che lui ha vantaggio per altri motivi perché deve essere prono perché colta sprovvista eccetera 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 fa attacco extra ma non prende vantaggio i suoi attacchi è una scelta tattica molto bene attacco extra chiaro che è forte è attacco più però rischi di non colpire rischi quel tra virgolette l'ultima capacità capacità proprio unica non dico bella perché c'è di unica che fa forse capire lo spirito del samurai è la forza di fronte alla morte semplicemente una volta al giorno quando lui va a zero come reazione interrompe il turno dell'avversario subito ha un suo turno in cui può agire quando è finito lui va giù qualsiasi danno che prende in quel turno permette attacchi le opportunità effetti vari è automaticamente un'interosservenza sulla morte fallita quindi si rischia di morire molto più velocemente in realtà però quella azione è la sua ultima azione eroica che è cosa la fa e poi va giù questa è anche un samurai classe che in realtà è molto forte se utilizzata in certo modo e in certi frangenti ma deve piacere questi erano gli archetipi del guerriero io ricordo sempre che il guerriero forse perché è stato colpito da una classe da sapere usare cioè paradossalmente come combattente a mio avviso è il più complesso da usare perché ha opzioni tattiche immense non bisogna stringersi solo in quell'ambito infatti ricordo che la capacità più forte del guerriero sono che sono solamente caratteristiche gli attacchi c'è solo lui che può fare tra attacchi o quattro attacchi che ovviamente li farà al ventesimo perché rompe completamente il gioco è una capacità finale di fare quattro attacchi in questo gioco però l'undici ne fa tre che è veramente eccezionale per un combattente concludo dicendo che ricordo se non avete letto che in questo gioco l'attacco extra non è poi solo attaccare con l'arma puoi fare la spinta puoi fare buttare a terra puoi fare l'afferrare quindi tantissime opzioni di combattimento che si mischiano al fatto che le fai mentre ti muovi quindi tu veramente il tuo unico limite è la fantasia e la tua forza un'estrezza bene concludo dicendo che questi erano gli archetipi fatemi sapere la vostra se avete provato se avete avuto un guizzo creativo nel utilizzare un guerriero nelle sue 100.000 opzioni che bello perché le classiche hanno magari capacità sempre uguali io ci vedo sempre quella marcia in più proprio perché non ti legano a niente sono liberi vi ringrazio fatemi sapere la vostra ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti